Ogni volta che arriva l'estate è sempre la stessa storia. Qualche cliente arriva da me e mi dice adesso vado in vacanza, devo lasciare il mio computer incustodito e non vorrei mai che qualcuno si facesse i fatti miei in mia assenza. Ti garantisco che non serve a niente dirgli di mettere la password e questo è comprensibile perché quando per esempio c'è un solo computer in casa che usano più persone oppure sul posto di lavoro quando il computer deve essere lasciato a disposizione anche degli altri questa cosa non è percorribile. E allora che cosa fare? All'inizio avevo pensato sempre di ricorrere a Bleachbit che è un programma che fa pulizia e che ti avevo presentato qualche video fa ma in realtà non è la soluzione migliore in assoluto perché tante tracce rimangono e tante cose non possono facilmente essere nascoste con Bleachbit. Ma per fortuna c'è un altro programmino specifico che è in grado non solo di cancellare tutte quante le nostre attività dal computer ma facendolo libera anche spazio e velocizza la macchina stessa. Allora a questo punto non posso fare altro che presentartelo. Cosa ne dici? Ti senti pronto? Iniziamo! Il software che sto per presentarti ha una caratteristica davvero molto particolare nel senso che può essere facile o difficile quanto lo vuoi tu. La possibilità infatti di fare una pulizia completa automatica di cancellare tutti quanti i dati, i file temporanei e tutto ciò che ingombra il nostro pc o led della nostra privacy semplicemente con due clic. Oppure puoi andare a configurare manualmente ogni singolo parametro di questa pulizia arrivando ad un risultato assolutamente customizzato sulla base di quelle che sono le tue esigenze. Come prima cosa come sempre andremo ad aprire il nostro browser di fiducia e nel motore di ricerca digiteremo Gentiluomo Digitale. Effettuiamo la nostra ricerca e come sempre il primo risultato quello che riguarda il dominio Gentiluomo Digitale.it sarà quello che ci interessa. Quindi andiamoci a fare un bel clic sopra. Si aprirà il sito della nostra community. Qui andremo nella pagina Downloads e in questa pagina scenderemo in basso fino a individuare questo risultato qui. Privacy Eraser Free. Per scaricare questo programma faremo un clic sul pulsante azzurro File Download e attenderemo pochi istanti che il file stesso venga scaricato. Eccolo qui. Una volta scaricato il file tutto ciò che dovremo fare sarà un clic per mostrarlo nella cartella. Chiuderemo il browser. Apriremo la cartella compressa e faremo doppio clic sul file di installazione. Accetteremo che vengano apportate le modifiche al nostro dispositivo cliccando sul pulsante sì e si aprirà l'installer del nostro programma. Possiamo a questo punto chiudere la cartella compressa retrostante e andare a cliccare sul pulsante ok dopo esserci accertati che la lingua sia l'italiano. In questa schermata andremo semplicemente a cliccare su avanti e nella successiva accetteremo cliccando sull'apposito pulsante i termini del contratto di licenza facendo clic nuovamente su avanti. Lasciamo il percorso di installazione esattamente come ci viene proposto e facciamo ancora una volta clic su avanti e anche in questa finestra lasceremo tutto quanto esattamente come cliccando ancora una volta su avanti. In questa schermata invece ti consiglio di lasciare le voci esattamente come le vedi impostate qui. Quindi creeremo un'icona sul desktop, non faremo una scansione automatica dei cookies da tenere ed andremo ad aggiungere queste voci nel cestino, nel menu contestuale e nel menu di explorer. Quindi facciamo clic ancora una volta su avanti e poi su installa. Attendiamo alcuni secondi e come vedi il programma verrà installato nel nostro computer. Quello che possiamo fare è togliere il segno di spunta da questa voce what's new e lasciarlo invece su avvia privacy eraser. Clicchiamo quindi su fine e si aprirà il programma appena installato. Come puoi vedere l'interfaccia di questo programma è davvero molto scenografica ma prima di andare a vedere che cosa può fare per noi questo programma è opportuno capire invece che cosa non farà giustamente per noi. Quello che non farà sarà naturalmente cancellare i nostri dati personali e per dati personali intendo che non cancellerà mai i nostri documenti, non cancellerà mai i nostri messaggi di posta, non cancellerà mai le nostre immagini e così via. Quello che invece andrà a rimuovere questo programma sono le nostre tracce. Quindi ad esempio l'elenco degli ultimi siti che abbiamo visitato, l'elenco degli ultimi programmi che abbiamo aperto. Salvare i nostri dati personali sarà naturalmente una nostra cura se non vorremmo che qualcuno li trovi sul nostro computer. Mentre per tutto quanto il resto ci penserà il nostro privacy eraser free. Per utilizzare privacy eraser free nella maniera più semplice tutto ciò che dobbiamo fare è un clic sull'enorme pulsante scan che diventerà tutto contento quando ci andremo su, ci si illuminerà e comincerà a brillare. Quindi facciamo clic e diamogli alcuni minuti per fare una scansione completa di tutto il contenuto del nostro computer. Eccolo qui. Ecco fatto, la nostra scansione è terminata e andiamo a vedere che cosa ha rilevato nel corso della sua analisi il nostro privacy eraser free. La prima cosa di cui ci accorgiamo è che ci propone di cancellare la bellezza di 1 giga di dati. In che cosa consistono questi giga di dati e perché ho detto la bellezza di 1 giga di dati? La bellezza di 1 giga perché si tratta di una macchina completamente nuova su cui sono installati semplicemente quattro browser più il famosissimo internet explorer che sopravvive di default in tutte le versioni di windows. Quello che troviamo da cancellare sono una serie di dati relativi al explorer e quindi ad esempio l'elenco degli ultimi programmi usati di recente piuttosto che l'elenco degli ultimi file che abbiamo aperto di recente su questa macchina, i file temporanei, i dump della memoria e i file di log di windows che registrano tutte le ultime attività che abbiamo compiuto sul nostro computer. Inoltre ci propone di svuotare la cache di internet, l'elenco degli ultimi siti che abbiamo visitato su ogni singolo browser installato, l'elenco dei cookies e attenzione ai cookies perché sono sempre un'arma a doppio taglio. Eliminano tutte quante le tracce della nostra attività su questo computer ma ci disconnettono anche automaticamente da tutti quanti i siti. Quindi se vorremmo rientrare su un sito qualsiasi dovremo reinserire la password, il che è da un lato una tutela nei confronti degli estranei che dovessero toccare il nostro computer ma anche una cosa un po' noiosa per noi. Questo come dicevo vale sia per Google Chrome che per Microsoft Edge, Firefox, Opera e l'onnipresente Internet Explorer. Ma per meglio comprendere l'utilizzo di questo programma ho dimenticato di dirti una cosa molto ma molto importante ovvero che se andiamo qui in alto sulla voce settings abbiamo la possibilità di aprire il menu in cui l'ultima voce sarà user interface e se ci faremo clic su potremo cambiare la lingua di default di questo strumento da inglese in italiano cosa che andiamo subito a fare. Fatto questo clicchiamo sul pulsante apply in basso a destra e vediamo che il programma viene immediatamente tradotto nella nostra lingua e potremo a questo punto chiudere la finestra delle impostazioni per andare a vedere un pochino più nel dettaglio come funziona questo programma. Quello che notiamo è che sul lato destro abbiamo una serie di voci che ci consentono di impostare fino nei minimi dettagli ognuna delle funzionalità di questo software. Nella voce Windows ad esempio avremo la possibilità di impostare tutte quante le funzionalità di pulizia relative a Windows in maniera analoga a quello che facevamo anche con Bleachbit che ti ho presentato in un vecchio video. La stessa cosa per quanto riguarda i browsers potremo scegliere browser per browser quale tipo di pulizia vorremmo che venga effettuata. Abbiamo poi una voce interessante che è la voce trita file che ci consente di andare a distruggere completamente dei file e delle cartelle ne creo uno solo per dimostrare come funziona e basterà trascinarli all'interno e premere il pulsante avvia per avviare una procedura che rende irrecuperabile e cancella irrimediabilmente il nostro file. Lo stesso per quanto concerne il pulitore drive che consente di distruggere completamente tutto quanto il contenuto di un hard disk. Se quindi avremo un disco esterno che vorremmo collegare al nostro computer e distruggerne tutto quanto il contenuto in modo da renderlo assolutamente irrecuperabile potremo utilizzare questa opzione qui. Ovviamente noterai che il disco di sistema non è distruggibile perché il sistema stesso si bloccherebbe appena iniziassimo a distruggere i suoi dati. Una volta che quindi avremo terminato la configurazione del nostro software ed avremo fatto la scansione in modo analogo a come ti ho mostrato poco fa quello che dovremo fare sarà semplicemente scegliere il tipo di pulizia che vorremmo fare e tutto quanto lo spazio che è stato analizzato e trovato come superfluo sarà immediatamente distrutto. Andiamo a farlo. Ci viene detto che dobbiamo chiudere il nostro browser e noi diligentemente obbediamo e clicchiamo sul pulsante sì per continuare con la nostra pulitura. Lo stesso per quanto concerne Microsoft Edge e in pochi secondi come puoi vedere la pulizia viene completata e avremo liberato la bellezza di un giga di spazio sulla nostra macchina. Sinceramente mi sono sempre stupito del fatto che questo programmino sia gratuito per quanto è buono e per tutte le cose che fa perché se ci pensiamo cosa fa? Libera spazio sul nostro computer di conseguenza lo rende anche un pochettino più veloce perché lo alleggerisce e protegge la nostra privacy. Come se questo non bastasse il programma viene aggiornato molto ma molto frequentemente e questo mi porta ad una considerazione perché alcune persone giustamente me lo hanno chiesto nei commenti. Ogni volta che io presento un software lo rendo anche disponibile nella sezione download del sito gentiluomodigitale.it e questo ormai lo sai. Ma questo non toglie che se desideri scaricare il software direttamente dal sito del produttore tu possa fare una ricerca su internet cercare il sito e andare a scaricarlo direttamente di là. Tu stai tranquillo che io assolutamente non mi offendo. E siamo giunti al termine anche di questa puntata. Ma prima di salutarci devo assolutamente ringraziarti per aver guardato il video fino a questo punto cosa che ti fa onore e come sempre non mi resta che salutarti e darti appuntamento. Alla prossima!